Non posso avere l'onore che Gabriele Lavia sollevi questa grande copertina. E cosa succederà adesso? Chi viene fuori? Basta amarsi. Basta amarsi. Ecco, proprio così. Ma qui dov'è l'amore? Ah, questo è... Qui c'è solo schifo, orrore, fango e pena. Dammi uno schiaffo, te lo chiedi in chi non te mi sa. Andiamo, è così che un essere umano incontra un altro essere umano. Dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo. È così che noi amiamo il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Dammi uno schiaffo, ti prego, dammi uno schiaffo. Non riuscirai mai a pagarlo, Lisa. La tua padrona ti tiene l'accio finché i clienti non ne vorranno più sapere di te. Lisa, dammi uno schiaffo. E finirai in un'altra casa, poi in un'altra, poi in un'altra... Dammi uno schiaffo, Lisa, ti prego, dammi uno schiaffo. Lei era completamente ubriaca, tutta scarmigliata, completamente nuda, aveva il corpo coperto di libidi. Ti pago dieci rubri per uno schiaffo, Lisa. In questo fango, perché? Perché? Dammi uno schiaffo, Lisa, dammi uno schiaffo. Perché? Perché mi nutrono bene. Mangio i dolci, bevo il caffè e ho dei bei vestiti, chiaro? Dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo. Grazie. Ma non puoi andartene, t'ho comprata per due ore, lo capisci? Che per due ore sei una cosa mia. Tu eri il mio strasso da colpestare. Perché salvarti? Memoria dal sottosuolo. Senza Dostoevsky non sarei quel che sono, il mondo non sarebbe quel che è. Parola di Gabriella. Ah, beh, questo è indubbiamente. Sono memoria dal sottosuolo e... veramente è stata una cosa molto fortunata per me, perché questo adattamento che considero molto felice è anche molto importante. Ce ne sono stati tanti adattamenti di memoria dal sottosuolo, ma non è presuntuoso dire che questo certamente è un'opera felice. Io volevo, posso interrompere una teoria, volevo fare, svelare un retroscena, di solito non lo faccio abitualmente, anche perché si tratta... No, vedi, prima abbiamo visto l'attrice, lui dice Axen, che quanto sono stato per cercare di correggere un difetto che poi alle repliche ha ripreso. E qual era? È una cosa molto difficile da fare per un attore. Lei ha detto, perché mi nutrono bene, mangio i soldi, faccio questo e faccio questo. Invece doveva essere, mi nutrono bene, mangio i soldi, faccio questo e questo. La mano ferma. Questa cosa che sembra una sciocchezza, perché dice che ci vuole a stare con la mano ferma? Provaci. È difficilissimo fare... Infatti anche lei fa, mi nutrono bene, mangio i soldi, faccio questo e faccio questo. Non ha il gesto pulito e fermo, non riesce a fermarsi... E cosa dà? Tutti gli attori, ma gli attori non riescono al cinema, alla televisione, sono pochissimi attori al mondo che riescono a fermare il gesto. Cosa dà in più questo aspetto? Questo aspetto dà un rigore, una perfezione e non perdi la tensione, non la schizzi, la chiudi. E questo dà, questo chiude, si chiude, l'espressione si chiude nel corpo ed espone il corpo, in tutta la sua intensità, come il marmo, quando espone il Davide in Michelangelo. Per dire, il teatro è una cosa... l'arte del teatro è una cosa molto complessa, è così anche per quello che riguarda le intonazioni. La voce corpo è un tutt'uno, il corpo riunisce in sé voce e corpo. Adesso non dico più quello svelamento. È una cosa troppo difficile e che se ne vanno via poi gli spettatori, però purtroppo il mestiere dell'attore è, diciamo così, involgarito, svillaneggiato dall'uso che ne fanno in televisione, dove anche ci sono ogni tanto degli attori che hanno talento, per carità, però in linea di massima, innanzitutto e per lo più, come si dice in filosofia, sono veramente orribili, dato anche lo scarso tempo probabilmente che hanno per fare le sciocchezze che fanno. perché... Volevo, ricordavo anche... Che poi vengono anche teorizzate a livello sociologico. Sì, sì, ci si fa anche... ci si ammanta di un'aura. Siccome lo facciamo da vent'anni... Allora si ha già automaticamente la patente di qualità. Tutti lo guardano deve essere una cosa importante, ma l'importante può essere una cosa buona, può essere anche una cosa cattiva. La spazzatura, certamente è importantissima, ma se dovessi scegliere fra la spazzatura, vivere nella spazzatura e non vivere nella spazzatura, scelgo la mia seconda ipotesi. Come è così. Di Memoria del Sottosuolo brevemente volevo ricordare anche un aspetto prettamente scenografico, ma di grande impatto, che era la famosa neve, una neve vera, che dava questo senso di gelo. Poi al teatro India, ricordo, si viveva questa situazione.